Che dovevamo fare oggi? Allora, seconda sessione di Q&A Quindi andiamo a rispondere a qualche domanda e andiamo a spiegarvi qualcosa che magari la maggior parte di voi probabilmente non conosce Matteo, Fabio, due capitani dell'esercito in congedo E Spaghetti Leadership è il nostro podcast Nel dettaglio, qual è la prima domanda? Sì, c'è una domanda complimenti Anzi, ringraziamo oggi nel passato 9067 Ciao, per alcune domande volevo chiedervi Quali compiti svolge il generale militare? Il generale civile non ne conosco Uno sì, scrive lì Andiamo avanti Allora, il generale è il ruolo apicale, anzi è il grado apicale della Forza Armata È quello che sta più in alto di tutti quanti Ci sono diversi gradi di ufficiali generali Però sostanzialmente sono quelli che decidono l'agenda di Forza Armata Cioè il futuro della Forza Armata dipende spesso da scelte prese da generali Ce ne sono alcuni che, come dicevi prima, invece mettono solo la firma Ma quella è un'altra cosa E comunque, diciamo, più in generale la categoria degli ufficiali è quella che dà una direzione Ma dopo ne parliamo anche meglio Quindi il generale è quello che fondamentalmente decide In ultimo sono decisioni di livello alto Ci sono vari livelli Livello tattico, livello operativo, livello strategico E si rifanno proprio all'importanza di queste decisioni Quindi i generali, ad esempio, prendono delle decisioni che potrebbero coinvolgere più nazioni Quindi l'Italia con altre nazioni Oppure il movimento di certe quantità di uomini Eccetera, eccetera Non entriamo troppo nei dettagli perché sennò diventa più difficile da capire Poi questa è una domanda Cosa cambia tra marina, aeronautica e terra? Quello che cambia tra un cinghiale, un tonno e un pappagallo Esatto, nel senso che i pappagalli stanno sempre a parlare e basta No, allora, intanto Marina, aeronautica, esercito Quindi è quello che stavi chiedendo Ok, sono diverse forze armate Sì, chiaramente l'esercito ha una sua aviazione e ha una sua forza da sbarco Tutte e tre le forze armate sono in grado di esprimersi in diversi scenari Però chiaramente la marina predilige il mare L'aeronautica predilige la terza dimensione L'esercito predilige la terra Spero di essere stato più o meno esaustivo Seconda domanda Se un militare può entrare in una ONG Organizzazione non governativa come SOS Mediterraneo Allora, posso farti un esempio chiaro L'ammiraglio De Giorgi Ammiraglio è un generale di marina Quando è andato in pensione è entrato in Sea Shepherd Sea Shepherd ogni tanto mi vedi con la maglietta di Sea Shepherd È una ONG che si occupa della salvaguardia di specie in pericolo Specie marine in pericolo Particolarmente cetacei, tartarughe marine Quindi pesca Gagliardicus acquaticus Esatto Hanno salvato anche la balena gagliaria Eccola E lui si occupa di Quello che faceva in marina lo fa adesso Cioè Gli hanno affidato la responsabilità di imbarcazioni Della flotta di Sea Shepherd Molto importanti E lui si occupa di condurre Una delle cose che si imparano in marina Quando sei un ufficiale è la navigazione E lui si occupa di navigazione Quindi la risposta è sì Se puoi farlo nel mentre stai lavorando Direi di no Volevo anche chiedervi Se potevate velocemente spiegare La gerarchia dell'esercito E i ruoli che ci sono Io cercando su internet Non sono ancora riuscito a capire in maniera chiara Quanti ruoli realmente esistono Intanto non ti preoccupare Certe volte non lo capiamo neanche noi Allora L'esercito è diviso in tre Grandi categorie La categoria Edward Mani di Forbici La categoria ufficiali Gli ufficiali ricoprono incarichi di comando Quindi comandano La categoria sotto ufficiali Quindi loro si occupano di ruoli di coordinamento Staff detto anche La categoria graduati e volontari Loro se lamentano No Non puoi dire Ma dai Va bene Allora facciamo Facciamo un esempio Intanto spesso Spesso si dice no Perché l'esercito è una grande famiglia Allora io la metafora della famiglia L'ho sempre odiata Perché Anche i fatti di cronaca Ci insegnano Che all'interno delle famiglie C'è Quello che è un assassino Quello che si droga Quello che ruba Il cugino Che abita negli Stati Uniti Perché è scappato dalla polizia Cioè Nelle famiglie Spesso e volentieri Si nascondono I più grandi ostacoli Della vostra vita In realtà Cioè I più grandi pezzi di merda Anche della vostra vita Quindi a me La metafora della famiglia Non è mai piaciuta per niente Immaginiamo invece un corpo umano Un corpo umano Funzionante Non il mio Non il suo Ha un cervello funzionante Io funziono Siete colorotto Ha un cervello funzionante Che prende delle decisioni E invia degli impulsi Ci sono degli organi A vari snodi E non c'è un organo Che è più importante di un altro A meno che di quegli organi Non ne hai due Cioè tu sopravvivi Con un polmone di meno Sopravvivi con un rene di meno Non sopravvivi senza cuore Non sopravvivi senza intestini Ogni organo è importantissimo E poi ci sono i muscoli Un sistema scheletrico Una struttura Le braccia E le gambe Allora Hai bisogno solo del cervello? No A meno che tu non sia Stephen Hawking E quindi vivi su Cioè C'è l'anima sua Forse la tagliamo Forse la tagliamo Altrimenti tu hai bisogno Di gambe solide Braccia forti Perché Non immaginare Una persona sedentaria Cioè Se vogliamo pensare Al corpo Come metafora Di una forza armata Abbiamo almeno Un atleta olimpico Quindi deve essere Tutto efficiente Il più possibile Almeno E chiaramente Le gambe E i piedi Che ti servono Per camminare Sono quelli Che stanno più a contatto Col terreno Le braccia Le mani Sono quelle che toccano Che tastano Dove iniziano i problemi? Tu immagina che stai camminando Su un sentiero E tu riesci a vedere Se è alto un metro e ottanta Riesci a vedere A un paio di chilometri Di distanza I tuoi piedi Riescono a vedere Al massimo A un paio di metri Davanti a loro Quando le dita dei piedi Si uniscono tra loro Per dire Quanto sarebbero più brave Se facessero loro la testa Le cominciano i problemi In sintesi Ma fondamentalmente Gli ufficiali Sono i comandanti E ricoprono Incarichi di comando Prendono decisioni Di vario genere I sottufficiali Soprattutto nel ruolo maresciali Nella loro prima parte di carriera Ricoprono anche loro Incarichi di comando Poi si specializzano E vanno a ricoprire Incarichi di staff E basta Nella categoria Sottufficiali C'è anche il ruolo sergenti Che sono i caporali gialli Io so già che Vabbè Ok No scherzi A parte Il ruolo sergenti È uno dei ruoli Più importanti Non che ce ne siano Di più o meno importanti Ma Il ruolo sergenti Il sergente È un graduato Che ha fatto un corso Sergenti Nel quale si è specializzato Molto In una branca Che ha deciso lui Che può essere L'armaiolo Che può essere Anche uno sniper Uno sniper Sergente Andrà a coordinare Un nucleo sniper E È una figura importantissima Io direi Davvero fondamentale È un graduato Altamente specializzato Al quale Vengono Affidate Responsabilità Pari A un ruolo Sottofficiali Quindi I sergenti Ragazzi I sergenti Salvano la giornata Poi Iniziamo con i graduati I graduati Sono una categoria Molto ampia Ci sono Moltissimi gradi All'interno Della Della categoria E sono Quei volontari Che sono passati In servizio permanente Al loro livello Ricoprono In carichi Di Differenti Responsabilità Quindi Comandano la squadra Sono Alcuni Ho avuto Graduati Che erano I miei Vicecomandanti Di Plotone Comunque Quando hanno Una certa anzianità E una certa esperienza Dimostrano Chiaramente Di essere Molto più affidabili Di tante altre persone Questo è garantito Poi ci sono I volontari I volontari Sono quelli Che hanno appena Fatto il loro ingresso In forza armata E si stanno Specializzando Stanno percorrendo La loro strada Questa Grossomodo È la differenza Della piramide Il pezzo Che serve di meno È la punta Quelli che stanno Con i piedi per terra Sono quelli Che mandano avanti La baracca Sostanzialmente Seguendo le linee guida Che dà L'organo centrale Sono i veri esecutori Questa è Grossomodo Fondamentalmente Riassumendo Ci sono I volontari Alla base Quindi a livello Di gerarchie Come strutturato Volontari Graduati Quindi UFI Gli ex Vfp1 Vfp4 Eccetera Poi si passa Graduati Quindi Da caporale Passi a caporal Maggiore Capo Adesso si chiamano Primo graduato Capo Graduato Aiutante Comunque Gli ex 50 sfumature De caporale Quindi ci sono Vari livelli Vari gradi Sempre nella categoria Dei graduati Poi dopo C'è Sopra la categoria Dei sotto ufficiali Sergenti E Marescialli E poi si arriva Alla categoria Degli ufficiali Da sottotenente Poi tenente Capitano Maggiore Tenente Colonnello Colonnello E poi ci sono Anche qua I generali 3, 4, 5 generali E queste Sono Questa è La gerarchia Della forza armata Le varie categorie I ruoli Ve li ha spiegati Fabio Non ve li ripeto Perché se no Ci addormentiamo Chiaramente Dipende sempre Da quello che vuoi fare Tu Una volta che entri In forza armata Cioè Se tu giochi A call of duty Usi sempre Lo sniper Perché Ti odiano tutti E ti piace così E dici Io da grande Nell'esercito Voglio fare lo sniper È chiaro che Devi entrare Come volontario E specializzarti Come tiratore scelto Non è che Da capitano Non lo fai Il tiratore scelto No Al massimo Comandi una compagnia Dove hai anche Tiratori scelti Se Dici Io Ho sempre adorato Fare il cinofilo Ho cani Da sempre Ho i miei patentini Per addestrare i cani Vorrei Aspettare il concorso Canine Per diventare Conduttore cinofilo Devi farlo Da graduato Non ti consiglierei mai Di passare Sotto ufficiale O ufficiale Dipende sempre Da quello Che ti aspetti Tutta questa vita Quindi Ad esempio I ruoli Operativi Sul terreno Per Come diceva Fabio Quelli anche Specializzati Più specializzati Voglio Voglio utilizzare La mitragliatrice Ok Per renderlo Molto Terra Terra Oppure Il fucile Del sniper Oppure Voglio Che cavolo Ne so Qual è un altro ruolo Che possiamo Essere un operatore Contro carri Voglio sparare Con Lo spike Queste cose qua Allora Devi essere In questa Categoria Vuoi invece Avere un ruolo Comunque Di comando Magari Di piccole unità Quindi magari Il comandante Del plotone Puoi fare Il Sotto ufficiale Poi ci sono anche lì Varie specializzazioni Ad esempio Il pilota I piloti Dell'esercito Devono essere O sotto ufficiali Marescialli O ufficiali O ufficiali Ok Quindi Se vuoi Pilotare Se invece Vuoi stare Sopra L'elicottero E fare Ad esempio Il tecnico di bordo Tecnico di bordo Sono sotto ufficiali Se ne ricordo male Però se vuoi fare Il mitragliere Puoi essere benissimo Un volontario O un graduato Quindi Dipende veramente Che cosa vuoi fare Se vuoi invece Comandare Principalmente Che all'inizio È un comando Che fai Sul terreno Perché i comandanti Quindi Gli ufficiali Da tenenti Da capitani Comandano I plotoni Poi comandano Le compagnie Quindi hai Delle persone A cui Dici cosa fare A cui Comunque Con cui Organizzi Le attività Anche Ok Poi dipende Dai vari reggimenti In cui In cui si va Però Quando ci sono Gli addestramenti Quando ci sono Le campagne Addestrative E così via Comunque il tenente È quello che Poi è lì E dice Ai vari plotoni Alle varie squadre Cosa devono fare E li coordina Ok Mande movimenti E così via E quindi È questa un po' La Anche la differenza La differenza Poi Prossima domanda Ci sono molte differenze Tra Accademia militare Di Modena Quella di Livorno E quella di Pozzuoli E torniamo Alla primissima domanda Allora Intanto Modena Livorno E Pozzuoli Sono le tre Accademie Delle forze armate Cioè Modena c'è L'Accademia Dell'esercito E dei carabinieri Per i primi due anni A Livorno C'è l'Accademia navale Per la marina E a Pozzuoli C'è L'Accademia Dell'aeronautica Poi E queste sono Le accademie Perché poi ci sono Le scuole militari Quelle dove Il Giovane Finisce I tre anni Del liceo Gli ultimi tre anni Gimnasio Gli altri tre Puoi entrare In una delle scuole Sì E sono Il Morosini Per la marina La Sì La due Per l'aeronautica La Teulier La Nunziatella Per l'esercito Queste sono Le scuole militari Allora L'Accademia Chiaramente Ti forma In base Alla forza armata Di cui fai parte Cioè In cui vuoi entrare A Modena Ti formi Per diventare Un ufficiale Dell'esercito Se hai fatto Il concorso Nell'esercito O per diventare Un ufficiale Dei carabinieri Se hai fatto Il concorso Nei carabinieri A Pozzuoli Tu comandi Per forza Un'imbarcazione Una Si chiamano Imbarcazioni Una nave Non lo so Se volevo fare Marina Io andavo A fa Marina E non pensate Che avrete I vostri Ray-Ban E il vostro Brevetto Con scritto Pete Mitchell Top Gun E Porterete per forza Cioè Perché vi ricordo Qua tutti è Ma Maverick È di Marina Non è dell'aeronautica Per così Però No Scherzi a parte Ci siamo Non abbiamo Parlato dei carabinieri Cioè Facciamo un intro Veloce su quello Visto che Si parlava di Forze armate Abbiamo detto Esercito Aeronautica Marina E carabinieri Sono la quarta forza armata E carabinieri È un esercito Che ce l'ha fatta E che però Non può essere Inserito Come esercito Da dopo la seconda Corriere mondiale Continuiamo a pagare Delle mega multe Quella è un'altra storia Sono la quarta forza armata Si occupano Sia di Fanno capo Sia al ministero Dell'interno Che al ministero Della difesa Hanno incarichi Di militar police Quindi polizia militare All'estero E il servizio territoriale Che svolgono in Italia Devo dire Che si vestono Molto meglio di noi E hanno Viaggiano sempre in due Viaggiano sempre in due Sì fanno le barzellette Sui carabinieri Ma perché Prima l'esercito Stava poco in giro Comunque No Devo dire che È una forza armata A tutti gli effetti Hanno praticamente Gli stessi numeri Dell'esercito È una realtà Che Merita Tutto rispetto Se un giorno Voleste diventare Dei carabinieri Non avrei nulla In contrario Ma come Carabinieri O altri forzi armati Forzi Sì Corpi armati Dello Stato Che ne so La polizia La guardia di finanza La polizia Esatto Qui non si esclude Il discorso è sempre Non partite da Chi vi si prende Non fate Tutti i concorsi E qualcuno Mi si prenderà Voi che cosa Volete fare E poi Prendete una decisione E dite Io voglio Da grande Voglio fare questo E poi Cercate di fare quello Poi Differenza tra Generale e ufficiale Il generale È un ufficiale Cioè È un ufficiale Apicale Nella forza armata Di marina Si chiamano Ammiragli Ma Sono i gradi Apicali Delle forze armate Il ruolo Dello stratega Hunger Games Cosa Sì Hunger Games Allora Tu immagina Tutti i film Dove c'è una crisi E il presidente Risponde subito No parliamo del presidente Gli Stati Uniti Ovviamente Ci stanno Sti tavoloni Dove ci sono Quelli vestiti in borghese E quelli In divisa Quelli in divisa Sono dei generali Di solito Sono quasi sempre Dei generali E ce n'è quasi sempre In tutti i film Uno scemo Che deve dire Usiamo l'arma atomica Perché non c'è soluzione Poi alla fine La situazione Viene risolta Da un tizio incivile Che aveva fatto Il militare Anni prima Con un paio di forbicine Con la punta arrotondata Oppure chiamano John Wick Oppure chiamano John Wick Quindi Lo stratega non esiste Cioè È proprio una figura Che viene utilizzata Magari in libri Nei film Eccetera Però in realtà Spesso Combacia con Un generale Che ha dei ruoli All'interno In questo caso Dell'ambito politico Che quindi Consiglia Dirige Le operazioni Ok Quindi Si Utilizza la strategia militare Perché è a comando E ha quindi la responsabilità Il buon generale Che aveva Io faccio delle gaffe Dei bastanti figliuolo Che ha gestito Quello Quello che è stato affidato Alla gestione del covid Che era il comandante Di Gomlog E poi In quel caso lì È stato affidato Lui Ha fatto tra virgolette La parte dello stratega Per riuscire a dare una mano Sulla Per la gestione Delle somministrazioni Eccetera Poco democratici In questo Sappiatelo E abbiamo risposto a tutto Apprezzo molto i vostri video State facendo un bellissimo lavoro Grazie in anticipo Buona giornata Prego Allora Fai pensare Ah sì Mentre ci siamo Affrontiamo anche Un altro discorso Che è quello Delle Varie armi Delle varie armi Dell'esercito E delle specialità Dell'esercito Non andiamo Troppo Nel dettaglio Magari facciamo poi Una puntata Proprio Nell'iper dettaglio Ma adesso vediamo almeno Un'infarinatura Esatto Va bene Allora Sperando di non fare gaff E se ci dimentichiamo Qualche pezzettino Chiediamo già scusa In anticipo Vedremo poi di Correggere il tiro Ok Anche perché non è che Ci rimettiamo a studiare Da capo tutto No Sì Sono guarito Però in generale Allora Come funziona l'esercito L'esercito ha Delle armi differenti Si chiamano Ok Ossia Sono I vari gruppi All'interno Dell'esercito Che hanno Dei voli differenti Si parte Da L'arma base Che è Affanteria Ah ok L'affanteria Ok Poi c'è Artiglieria Genio Trasmissioni Cavalleria Perdonate Ok Quindi sono Le principali armi Che sono 5 Poi ci sono invece Tutta la parte Di corpi L'arma di esporti materiali Quindi C'è Prima un corpo E poi c'è il corpo di commissariato E poi abbiamo anche Il corpo degli ingegneri Dei medici Dei medici Il sanivet Esatto Quindi anche la parte Di veterinario E questi Queste sono le armi principali Ok Poi all'interno Delle varie armi Ci sono delle specialità Che cosa vuol dire Come ha in maniera eccellente Spiegato Fabio l'altra volta In un video che è uscito a metà settimana All'interno ad esempio Dell'arma di fanteria Ci sono 5 specialità Quindi I paracaduttisti Che sono fanti Poi ci sono I bersaglieri I lagunari I granatieri E non mi ricordo l'ultimo Gli aeromobili E gli alpini Gli alpini Bravo Mi chiede anche mia Gli alpini Quindi Per metà Per metà Sei sano Quindi La fanteria Ok E' divisa In queste specialità Cosa vuol dire Vuol dire che io entro Nell'esercito Finisco in Fanteria Ci sono Queste specialità Finisco in Trasmissioni Ad esempio Che è un'altra arma Quella che si occupa Dei punti Satelliti Comunicazioni Eccetera Eccetera E di cui In cui sono nato io Tra l'altro Poi sei guarito Ma mi piace Quella parte un po' nerd Ad esempio All'interno delle trasmissioni Ci sono Trasmissioni Paracadutiste Trasmissioni alpine Guerra elettronica Ci sono anche lì Delle specialità Ok Quindi ogni arma Ha le sue specialità Questo cosa vuol dire Vuol dire che All'interno poi dell'Italia Abbiamo Diverse caserme Diversi reggimenti E poi Ognuno Ha Una specialità Diversa Ok Ci sono Magari più caserme Proprio su Tutto il territorio italiano Con La stessa specialità Magari Ad esempio Tu Versaglieri Quanti reggimenti Dei bersaglieri Ci sono Allora c'è Il primo a Cosenza Il terzo a Cagliari Il sesto a Trapani Il settimo a Altamura L'ottavo a Caserta E l'undicesimo a Orcenico Quindi Capite che Ok Arma Fanteria Quindi sono Come dicevamo Quelli che sono sul terreno Che la vanano Sì esatto Un po' Facendo dei paragoni Anche nei film Sono quelli che vanno All'assalto Quelli col fucile All'interno Dell'arma di fanteria Ci sono Le diverse specialità Di cui Le abbiamo elencate prima Prendiamo ad esempio La specialità Dei bersaglieri Ci sono X reggimenti Di bersaglieri Fanno tutti la stessa cosa Ok E E sono sparsi Per l'Italia Quindi questo è un pochino L'organizzazione Poi Sì Così Poi c'è l'arma di cavalleria Per esempio L'arma di cavalleria Si divide in due grandi specialità Che sono La cavalleria di linea E la parte carristi Quindi I cavalieri di linea Operano principalmente Con unità pesanti Su centauro La blinde Centauro È una specie di carro armato Blindato su ruote Ok Potete andare a cercarvi Qualche immagine Bellissima tra l'altro Quando spara Si sente E i carristi Si muovono Sulla riete Fondamentalmente Quindi su Cingolo Quelli che funzionano Su unità Quelli che funzionano Eh beh Però si sta Provvedendo anche Ci sono aziende Che diciamo Non si sa mai bene Chi lavora Per chi C'è questa azienda Che ogni tanto Sviluppa Sviluppa Nuovi sistemi d'arma E il PZH invece Il PZH è un Pezzo di artiglieria Il PZH 2000 Che L'artiglieria ci offre Grandi emozioni Tra l'altro Qualcuno l'abbiamo mandato In Ucraina Non lo dovevo dire Lasciamo Mamma mia Allora Praticamente Quindi Come funziona La fanteria È quella che assalta Le trasmissioni Sono quelli Che garantiscono I collegamenti Di solito La cavalleria È quella che si può muovere Più velocemente Di solito Sono quelli che Prendiamo l'esempio Più facile Delle battaglie Di una volta L'Alessandro Magno Della situazione Aveva La fanteria La cavalleria Che è quella che con i cavalli Poteva muoversi Più veloce Per aggirare Esatto Le linee nemiche Poi abbiamo L'artiglieria Che è quella che spara Da dietro I mortai A lungo raggio I semo 20 I semo 30 Quelle cose che Esatto Quelle cose che sparano da dietro Superano Quindi dalle linee amiche Spesso Sparano nelle linee nemiche La questione dei missili A lungo raggio Queste cose qua Il genio Si occupa di Sia costruire La parte fortificazione Sia costruire Noi non dovremmo farlo Però anche la posa Delle mine È un incarico Da geniere E L'ingresso Attraverso campi minati È sempre Quello che si chiama Breaching È sempre un'attività Del genio La costruzione Delle basi La parte In cui Quando si va in missione Si crea una cooperazione Con Il paese Ospitante La costruzione Di un sacco di robe In generale Redi fognarie Fa tutto il genio Cioè Se non ci fosse il genio Raga Beh Quello che diciamo prima Tutti servono Tutti servono La parte logistica Debita All'arma Trasporti e materiali Abbiamo detto Abbiamo detto Sì Tramat È anche commissariato Sì Quindi Esatto Trasporti e materiali Si occupano Appunto Di tutta quella Che è la logistica Quindi Di Da vestirvi Darvi da mangiare Mettere a posto Tutto Tutto Quindi anche tutti i mezzi Poi c'è la parte di Amministrazione Commissariato Che adesso è solo commissariato Adesso è solo commissariato Sì Che si occupa Delle pratiche amministrative Insomma E poi abbiamo La parte del corpo Degli ingegneri Che sviluppano Cose Lavorano in concorso Anche con Parte civile Le industrie civili Quelle che cercano di riportare L'industria civile All'esigenza di forza armata Perché Come dicevo prima Spesso non si capisce Chi lavori per chi C'è un'azienda in particolare E poi abbiamo Non faccio il nome È una tartaruga ninja E poi abbiamo Vabbè La parte dei medici I colpi sanitari E La parte vetrinari Sia per il controllo Degli animali Che abbiamo in forza armata Sia per gli alimenti Sì Ci sono dimenticati qualcuno? I farmaceutici Abbiamo anche Chi è laureato in farmacia E basta Mi sa che li abbiamo detti tutti Cari pari corso Se abbiamo mancato qualcuno di voi Fatecelo sapere Senza insultarci per favore Sì è vero Tanto il nostro numero Ce l'avete Qui dice Guardate un messaggine Dice Guarda che avete Tanto una cagata Così Facciamo un altro video Di scuse Esatto E aggiustiamo il tiro Comunque Ok Altre domande? Così abbiamo anche Nel mentre fatto Una spiegazione Un po' più completa Visto che ci è stata chiesta C'era un altro Che commentava Sempre sul discorso Dei raccomandati Vabbè Abbiamo fatto un video Dedicato Un altro che è stato Scartato dallo psicologo Gente Se vi scarta lo psicologo È perché siete squilibrati No Non è vero Non è vero Va bene Ma perché devi dire queste cose? Allora c'erano delle domande Ok A un allievo A un allievo Del 205esimo corso Abbiamo fatto rispondere Da una nostra collega In gambissima Tra l'altro È vero che gli allievi ufficiali Percepiscono uno stipendio? Certo Tra l'altro Lo trovate anche Bene scritto su internet Dovrebbe essere Per i primi due anni Da accademia Mi pare Un 800 euro Poi quando si diventa Si passa Sottotenenti Sottotenenti Si è intorno ai 1500 circa Poi nel passaggio da tenenti Si sale sui 1600 Credo 1700 E Da capitani 1800 circa 1000 Più Non si diventa ricchi Facendo i militari Anche perché La vita Soprattutto da ufficiali Spesso la si passa Lì dentro Ok Dalle 8 alle 8 Di solito Quindi È il fine settimana in treno O in aereo Quindi Se trovate una disperata Che vi sopporta O un disperato Che vi sopporta Sì per i primi anni Perché poi di solito Vanno a fanculo Comunque Quindi ti trovi a metà Dove hai già fottuto la carriera Ok Hai già fottuto la carriera Perché Hai detto No perché la famiglia è importante Quindi ti tiri un attimo E se stavi facendo carriera Quindi avevi già dato Il culo e tutto quanto Per dei treni Che poi sono sbagliati No Ti sei reso conto E poi ti mollano pure E quindi rimani come un coglione A fare comunque il pendolare Perché la casa Ce l'hai comprata In un'altra parte Quindi non si diventa ricchi A fare militari E dovete veramente volerlo Ok Dovete stare lì E dovete piacervi Volendo vi daremo qualche consiglio Anche su come risparmiare E dove dirottare alcune finanze Ma lo faremo poi Sì Però c'è una bella domanda Alla quale rispondo molto volentieri Perché anche qui C'è un po' di casino Dal punto di vista delle informazioni Riguardo la folgore Stavo scherzando prima Come si svolge una giornata tipo E inoltre la folgore Ha una sede fissa O a caserma in tutta Italia E come si svolge una giornata tipo Del nono colmo skin E se posso chiedere Qual è il motivo del vostro congeto Ok Allora Il motivo del nostro congeto Un giorno faremo delle puntate Delle cose a parte Interviste Se no leggi del mio libro Veramente ne parlo Anche perché mi sono Non è molto interessante Io ho fatto la revisione Capitolo per capitolo Non lo sta piacendo per niente Esatto Non sta diventando Non sta diventando virale Non è un best seller Come quello di qualcun altro Però Non a quei livelli Però Però diciamo che se la cava Allora Altra cosa Sì quello del nono Ne abbiamo già parlato In realtà Ok Ho anche risposto Mi pare Perché è stato chiesto Da più di una persona Ci sono Per rispondere velocemente Delle dinamiche Che non possono essere Orientate solo al Singolo giorno Ok Quindi non esiste una giornata tipo Addestramenti Missioni Studio Preparazione Allenamenti Quindi c'è veramente Un insieme Di cose da fare In cui non si sta Veramente Veramente mai fermi Ok Ma invece Un qualcosa che possiamo Approfondire è La folgor Che cos'è la folgor? Allora Intanto non pensare Siccome sono paracadutisti Che ne so È la scuola dove ha studiato John Wick O la scuola dei Power Ranger O altre cose Allora i reggimenti Sono sparsi Per la Toscana Il Lazio E il Veneto Perché c'è L'185 Artiglieria In Abbracciano I tre reggimenti Di fanteria Della Folgore Quindi l'187 L'186 L'183 Che sono in Toscana Il reparto comando Che è in Toscana La scuola Che è in Toscana E il reggimento logistico Che è in Toscana L'8vo Guastatori Che è a Legnago Vicino Verona Quindi i reggimenti Sono sparsi Un po' Per il centro nord Italia La giornata tipo Dipende Dalla rotazione Cioè Se sei in una compagnia Che è appena Rientrata Da un'operazione Che ne so Una missione all'estero O da un turno a strade sicure O da qualunque cosa Presumibilmente Starei facendo attività Di ricondizionamento In guarnigione Che cosa vuol dire? Stai sistemando Stai smaltendo La licenza Che hai accumulato Perché si accumulano licenze Stai facendo attività Di ricondizionamento Quindi stai Pulendo materiali Pulendo armi Riassettando Tutto quello Che c'è da riassettare C'è molto tempo Non vuoto Tempo che si può Utilizzare Per fare una sosta Di decompressione attiva Dallo stress Della missione Quindi Si fa molta educazione fisica Si va a correre Ci si allena insieme Non ci sono Addestramenti pesanti Però Poi che cosa C'è la fase di studio Ad esempio Cioè Non è che Si torna E in quella fase lì Non c'è niente da fare Ci sono tante attività Da fare A energia Media Ridotta Sì Ok O magari Quella Sempre quella compagnia Entra in approntamento Per un'altra missione Che inizierà Sei mesi dopo Un anno dopo E si programma Tutto un programma Addestrativo Per Rinfrescare alcune cose Perché magari Tu sei stato In una missione Di un certo tipo E vai a fare Tutt'altro In un'altra missione E quindi E esempio pratico Nel senso Se tu sei rientrato Da fare Un'attività Spostiamoci Sul campo sportivo Sì Se io per Sei mesi Sono stato Al mare E quindi Come Che ne so Faccio la sessione Da istruttore di sub E sto sei mesi Lì Poi mi devo preparare Magari Lo faccio da Novembre A febbraio Marzo E poi No scusa Al contrario Lo faccio da giugno A settembre E poi so che A dicembre Devo andare a sciare Magari da settembre A novembre Mi addestro Quei due mesi prima Incomincio a farmi Passeggiare in montagna Incomincio a guardare Come sono i miei materiali Gli sci Le bacchettine Il caschetto Gli occhialetti Se c'è qualcosa di rotto Incomincio a fare delle prove A utilizzare i materiali Per avvicinarmi E prepararmi Poi ad andare A fare la stagione di sci Esatto Poi quando sei in teatro Quando sei in missione La giornata tipo Dipende dal tipo di missione Chiaramente Se sei all'estero Presumibilmente Come dicevo in un altro episodio O sei di pattuglia O non sei di pattuglia Cioè La tua vita Intorno a quello Poi nei momenti Di libertà Ci incastri L'allenamento Ci incastri Il pranzo Ci incastri Il sonno Ci incastri Sentire casa E basta Si non è una giornata 8-16-30 No Ok però In generale Diciamo che Ci siamo Diciamo che Ci siamo Abbiamo detto Ok Direi che Per questa Possiamo anche Per questa puntata Possiamo anche Sì sì Concludere qua Se non ci sono altre domande Interessanti Ce n'è una Qual è il percorso Per diventare elicotteristi Io devo sentire Un Un nostro Ex Anziano Anche lui Congedato E chiedergli Se un giorno O viene qui O ci colleghiamo In diretta con lui E Vi regaliamo Un episodio Dove si parla solo Di aviazione dell'esercito È un grande È una persona Che stimo un sacco Così Facciamo raccontare Così A lui L'iter Che ha fatto E niente Io Vi saluto E vi ringrazio Forza Roma Grazie Grazie